Rock Targato Italia, finalissime, siamo qui con Mattia Ferretti in arte Ferretti, ciao Mattia allora raccontaci un po' chi sei, io ho letto un po' la tua bio e ho visto che tu sei il tuo, diciamo, punto forte, il tuo talone d'Achille e la tua recitazione mentre interpreti i tuoi brani quindi raccontaci un po' chi sei brevemente sì, diciamo che la mia formazione è attoriale, quindi nasco come attore, però la musica è sempre stata una roba interessante per me, diciamo qualcosa che volevo fortemente fare e per avere un qualcosa di mio, per fare qualcosa di mio veramente ho deciso di iniziare questo progetto qua che è un po' crossover alla fine, nel senso che mischia tante cose diverse, tra cui anche un po' il linguaggio da cui provengo, che è quello recitativo, sì bello, molto bella questa cosa, anche perché insomma, diciamo che è una cosa molto da cantautori ed è una cosa che è per molti demodè, ma in realtà per gli addetti ai lavori come me, che amano la musica, io la trovo invece una cosa fantastica e rende un progetto unico quindi, cioè, complimenti perché nonostante la tua giovane età hai fatto questa scelta, secondo me azzeccatissima ma ti volevo chiedere, che cosa ti aspetti da questa finale di Rock Targato Italia? Sicuramente è una figata il fatto che sono qua a Milano a suonare, è la prima volta che vado fuori dalle Marche a suonare e poi venire qua a Rock and Roll, che comunque è un locale di cui tutti mi parlano in giro suono e qualche amico magari che studia qua mi dice, dovresti venire a Milano a Rock and Roll quindi, in realtà vorrei solo godermi questa cosa e farmi un po' vedere, conoscere, ecco, vivermela alla fine senza aspettarmi niente in realtà Insomma, diciamo che è un bel principio, un bel inizio, un bel inizio, spero che sia la prima di una lunga serie di date milanesi Ti chiedo, Mattia, tu, quando componi, cioè secondo te nella tua composizione, è un po' una domanda che sono facendo tutte le band Qual è il tuo fiore all'occhiello? Cioè, qual è la cosa che, quando riascolti un tuo brano ti fa dire, è quello giusto, oppure sì, mi piace? In questo momento direi la maturità, cioè un brano che dopo averlo fatto, dopo che lo riascolto, sento maturo Però in generale credo la sincerità, la verità, senza aggiungere altro, che alla fine è una roba molto viscerale che arriva Quindi la verità Ok, e allora, ti chiedo, ti devo fare una domanda d'obbligo, dove troviamo il tuo materiale, dove possiamo ascoltare la tua musica? Su tutti i social e le varie piattaforme di streaming, mi trovate come Ferretti, oppure come Suono Ferretti Se non riuscite a trovarmi semplicemente come Ferretti, che è uno stupidissimo gioco di parole che rende l'idea Grazie Mattia, ci vediamo dopo, on stage, anzi noi sotto palco, grazie Grazie a voi